Sarà presentato ad Arco mercoledì il libro di Ciprian Lupu dal titolo Paradiso Inferno Andata e Ritorno. Si tratta dell'autobiografia di un uomo che ha vissuto una vita avventurosa dai risvolti umani incredibilmente intensi, in cui si può apprezzare l'intervento di angeli inaspettati. La presentazione sarà a Palazzo dei Panni con inizio alle 20.30 ed ingresso libero. Ciprian Lupu vive da anni ad Arco, dove è noto quale stimato direttore del Palazzo Hotel. Scritto insieme a Manuela Pizziolo, il libro è una spietata autobiografia che unisce il dolore, la solitudine, la violenza quotidiana, l'abbandono, la fuga, il successo personale, l'amore, la morte e la forza della rinascita. Ciprian Lupu da 7 anni direttore del Palazzo Hotel Città di Arco che però ha una storia importante alle spalle. Sì, praticamente sì, infatti adesso mercoledì prossimo presenterò il mio libro che si chiama Paradiso Inferno Andata e Ritorno. Può sembrare magari presuntoso che un giovane come me avrà scritto un libro a questa età, un autobiografico, però i casi che mi sono successi della vita mi hanno fatto pensare e ripensare. In poche parole c'è un attimo di spiegare quello che è successo. Oltre ai problemi del comunismo, quindi alcolismo in casa, ho avuto delle esperienze diverse dal solito, tipo essere stato mosso da un orso, buttato da un'altezza di 15 metri, aver bacino rotto. Poi la mia storia si chiude con l'uccisione della mia madre con una coltellata proprio e vera al cuore. Sono delle cose che mi hanno fatto un po' tra virgolette pensare e siccome la maggior parte delle persone mi conoscono come una persona solare, sorridente, sembra che non mi è mai successo nulla, quindi avevo bisogno di buttare fuori questa corazza, quindi di raccontare un po' al mondo anche quello che è successo. Anche perché per chiunque penso che potrebbe essere una... ma non di insegnamento perché di nuovo sembrerei presuntoso, ma che magari in un futuro possiamo pensare ai nostri problemi e guardarli veramente con gli altri occhi. Tu sei ormai arcense, il tuo paese di origine è la Romania, da dove vieni e dove la vita è ancora difficile? È vero, è vero e anche qua ci tengo a precisare che anche quando parlavo così, non lo so, con le personalità qua della zona del mio libro, ho trovato, non lo so, in tutte le persone una luce che cercavano di aiutarmi o di dare una loro impressione, quindi sì, mi considero veramente un arcense e non ci ho mai dubitato di questa cosa. Cipriano è innanzitutto il direttore dell'Hotel Palace e questo naturalmente lo rende un personaggio di una certa importanza nella città di Arco, oltre che molto conosciuto, anche un grande collaboratore e stimolatore del mondo della cultura. L'Hotel Palace, oltre che avere un ruolo come hotel, è anche un luogo nel quale negli ultimi anni, da quando c'è Cipriano in particolare, si fanno tante iniziative di tipo culturale che ci coinvolgono e che cercano di valorizzare la città di Arco. Scoprire da questo libro che ci ha chiesto a noi, diciamo a me e anche agli altri colleghi dell'Ufficio Cultura di leggere in anteprima, scoprire la vita e l'esperienza di Cipriano è stato per noi illuminante e dall'altra parte anche estremamente interessante per capire un pezzo di storia che è di una persona, ma che è uno specchio di una storia di persone del nostro territorio, giovani, vicini a noi, che in realtà è la storia dell'Europa, dell'Europa degli ultimi 20-30 anni e che per alcuni tratti forse ci stiamo dimenticando troppo in fretta e che per alcune cose è anche sorprendente e spaventosa forse in alcune cose, da cui però nascono veramente personalità belle, positive e di grande stimolo per l'intera comunità come Cipriano.